A proposito di sicurezza, sabato il Presidente della Repubblica, stamattina il Presidente della Camera, ci sono recati al rione Villa San Giovanni, è comunque un segnale positivo? Sì, come no, ho ringraziato molto il Presidente della Repubblica e anche il Presidente della Camera, è un segnale importante, sono due persone attente alla città, Fico è napoletano, ma il Presidente Mattarella in questi anni ha avuto modo di ascoltarlo spesso, abbiamo parlato, è venuto tante volte a Napoli, attento per quello che sta accadendo a Napoli, per la rinascita di questa città, per quello che accade nelle nostre terre con gli sforzi enormi che stiamo facendo, è attento alle fragilità, attento alle recrudescenze criminali, quindi sentiamo la vicinanza del Capo dello Stato, l'abbiamo sentito nei momenti gioiosi e nei momenti difficili, la città è molto viva, la città ha scelto, la città è forte, si sta riscattando ed è per questo che abbiamo tutto il diritto di alzare la voce quando le risposte non sono adeguate da un punto di vista di sicurezza, quindi questo è il compito principale dello Stato. Oggi io sto faccio, tra sabato e domenica, ma giusto ultimo ho fatto 20 chilometri a piedi, la domanda ormai ricorrente, ma non solo in questo fine settimana, gli ultimi tempi che mi fanno i cittadini non è più lo stadio San Paolo, che era prima la domanda ricorrente, è la sicurezza, dai quartieri di periferia ai quartieri centrali, e guarda caso la sicurezza è un compito esclusivo dello Stato. Quindi da questo punto di vista dal governo attendiamo basta discriminazioni, basta tagli agli enti locali, altrimenti non possiamo investire in maestri di strade, assistenti sociali, ed è vergognoso che si trovino 12 miliardi di euro per Roma e si taglino agli altri comuni, e non si abbia alcuna attenzione per quello che sta accadendo in particolare nella capitale del Mezzogiorno, che come abbiamo ricordato anche oggi continua a essere, nonostante tutto, prima per crescita culturistica culturale, terza per start up giovanili. In questi giorni si stanno girando 7-8 film nella nostra città, insomma credo che Napoli più di quello che sta facendo, l'associazionismo che ha fotografato anche il presidente da San Giovanni alla Sanità al CE, adesso anche il presidente della Camera, insomma questa città veramente si può chiedere sempre, ma abbiamo dato davvero tanto e continueremo a dare, quindi insomma credo che da questa visita e da queste parole ci attendiamo adesso anche qualche fatto concreto.